Sì, non mi metto le aziende lì. Ah sì. Dai faccio il film. Come parlano? Come parlano? Sì, sì. Tu mi senti? Sì, sì. Sì, sì. e' il il l 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